Il decimo municipio non può diventare il cassonetto di Roma. È bipartisan il no che da osti ai quartieri dell'entroterra si leva contro l'ipotesi di riattivare il tritovagliatore alle spalle dell'ex prosider per affrontare l'emergenza romana. In realtà ci avevano assicurato che il tritovagliatore non sarebbe arrivato qui a Dragona e invece purtroppo il municipio come sempre si è fatto scavalcare e pochi giorni dopo la smentita è arrivato qui. Il punto è un altro è che qui noi facciamo da anni una battaglia per Ostia Antica patrimonio dell'umanità mentre questa amministrazione sia la regione che il comune continuano a potenziare lo stabilimento Ama il che ovviamente non coincide con la nostra idea di sviluppo turistico e di sviluppo di questo territorio. Basta con questa storia che ogni volta che c'è una crisi dei rifiuti che ormai sono due l'anno perché una estiva e una invernale ogni volta il decimo municipio diventa il secchio di Roma. Basta, non ce la facciamo più. Il tritovagliatore nelle condizioni come è già successo un anno e mezzo fa, quelle condizioni come sta non è a norma. Tra l'altro qua ci sono dei colleghi che si fanno la doccia, che ci lavorano, ci sono furgoni e tutto invalia dei rifiuti. Non è possibile che ogni volta noi rientriamo la discarica di Roma. Anche i cittadini esprimono preoccupazioni al riguardo soprattutto visti i disagi riscontrati con la prima accensione del tritovagliatore. Pone in mo due questioni, la criticità legata alla viabilità, quindi al trasporto di questi rifiuti, un trasporto ingente con camion grandissimi, immensi e il problema proprio degli odori nauseabondi che purtroppo hanno investito questo nostro territorio. Noi già due anni fa organizzamo dei sit-in per avere dei dati certi, dati certi sulla composizione chimica di questi odori, quindi capire effettivamente quale fosse un potenziale danno alla salute dei nostri concittadini. E ci ponemmo anche il problema ovviamente legato ai lavoratori, ai lavoratori di questo impianto, che essendo quotidianamente a contatto con questi odori, con questi agenti chimici, ovviamente dovevano e crediamo tuttora che debbano essere tutelati. I residenti che già in passato avevano organizzato sitine proteste promettono battaglia, preoccupati anche dal fatto che il tritovagliatore potrebbe essere, vista l'emergenza in alto, utilizzato per smaltire i rifiuti anche di altre zone di Roma.